Trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del Corico Monpiemonte. Buongiorno, benvenuti ai programmi dell'accesso del Piemonte. Siamo qui con il Corico, in particolar modo con il Presidente Alessandro De Cillis e con il Commissario Vittorio Del Monte. Presidente, quali sono stati nell'anno appena concluso gli ambiti che il Corico ha maggiormente implementato nelle proprie attività? Bene, come certamente sapete il Comitato regionale per le comunicazioni, che è un organo del Consiglio regionale, tra le attività di cui si occupa principalmente c'è la gestione delle controversie nei confronti degli operatori di comunicazione. I dati del 2019 sono estremamente positivi, ma sono ancora più positivi se letti nell'ottica dell'ultimo triennio. Siamo passati infatti dal 2017 ad aver gestito circa 6.000 conciliazioni, 5.800, per essere arrivati nel 2019 a 10.000 conciliazioni gestite. Quindi c'è stato un incremento quasi dell'80%. Ma non è solo un dato numerico, quindi quantitativo, ma è anche qualitativo, perché siamo passati dall'82% di soddisfazione nella gestione delle controversie da parte degli utenti a un livello eccelso dell'87% di risultati positivi. Oltre a tutto ciò è rilevante anche l'attività in merito al cyberbullismo? Certamente il Comitato regionale per le comunicazioni si occupa storicamente della tutela dei minori sui media. In questo caso, grazie alla legge 71 nazionale, legge regionale che ci consente di occuparci di tutela dei minori, abbiamo creato, abbiamo coordinato il tavolo interistituzionale sul cyberbullismo e siamo partiti con una prima fase di ricerca universitaria per capire come gli studenti, come i ragazzi, vivono sulla propria pelle il problema del cyberbullismo. Commissario, in merito alla questione delle controversie, quali sono state le misure assunte dal Corecom per attuare la messa a regime della piattaforma concilia web? Sì, quest'anno, o meglio l'anno appena trascorso, il 2019, è stato l'anno in cui la piattaforma concilia web, che è la piattaforma interamente telematica, messa a disposizione dall'autorità centrale di Roma, dall'Agicom di Roma a tutti i Corecom delle regioni italiane, per la gestione delle controversie, è entrata in esercizio. Far partire una piattaforma telematica significa anche dare un valore aggiunto, per fare in modo che anche gli utenti che abbiano meno dimestichezza con gli strumenti elettronici, le apparecchiature elettroniche, possano usufruire correttamente del servizio. Il Corecom quindi ha cercato di tutelare e di dare attenzione all'utenza debole, ossia intesa debole nella gestione delle apparecchiature elettroniche, attivando presso la sua sede centrale delle postazioni computerizzate a servizio dell'utenza che Ivi si rivolga per poter impostare correttamente la pratica, che ricordo è una pratica integralmente telematica. Ha messo in atto un contact center, cioè un numero a cui gli utenti possono rivolgersi per avere informazioni e non ultimo ha mantenuto in servizio l'utilizzo degli uffici URP delle province della regione, in modo tale che le conferenze a distanza per le udienze in gestione telematica possano anche avvenire nell'ambito delle province senza spostamenti per i concittadini, i cittadini che risiedono non nel capoluogo della regione, ossia non risiedono a Torino. Avete quindi rilevato un aumento delle istanze anche fuori dall'area metropolitana? Sì, diciamo che quando si introduce un sistema nuovo, un sistema telematico, la preoccupazione è quella di non raggiungere tutti gli utenti, come ha già detto il Presidente Decilis c'è stato un incremento delle istanze, ma l'incremento, e per noi questa è una soddisfazione, è avvenuto anche negli ambiti delle province della regione e non solo nell'area della città metropolitana in Torino, che già aveva raggiunto in passato risultati di utilizzo del servizio davvero notevoli. Quindi questa è stata la soddisfazione che abbiamo avuto nel gestire la piattaforma telematica Concilia Web. Ringraziamo il Presidente del Corico Amalessandro Decilis, nonché il Commissario Vittorio Del Monte. Per avere informazioni relative alla piattaforma Concilia Web e alla presentazione delle istanze potete contattare il Contact Center al numero verde 800-101011. Città Amica è una hollus di dieci volontari che opera sul territorio piemontese, ha sede in Corso Inghilterra 43. È nata nel 2006 dalla volontà della Presidente Selvaggi Margherita e si occupa di dare aiuto alle famiglie disagiate. Le attività che svolgiamo riguardano soprattutto aiuto alle famiglie, ma appunto con bambini, in quanto offriamo loro la possibilità di aiuti scolastici, con ripetizioni, piuttosto che con attività da fare nel doposcuola. Ci occupiamo anche di raccolta di pacchi alimentari o comunque di prodotti per l'igiene personale, per i quali occupiamo la giornata del sabato, che è una giornata dedicata appunto a questa attività e nella quale abbiamo praticamente l'utilizzo di strutture, ma soprattutto di volontari che saltuariamente appunto ci aiutano in questa opera. Per questo dobbiamo ringraziare davvero le famiglie che si prestano molto e che offrono la loro sensibilità, dimostrano di essere molto sensibili nei confronti di queste famiglie disagiate. Ci occupiamo anche di recuperare del vestiario che rigeneriamo e che insomma laviamo, che mettiamo a disposizione di adulti, ma soprattutto di bambini, e di materiale anche per le donne che sono in gravidanza e che quindi abbiano in qualche modo la possibilità nel momento della nascita di avere prodotti piuttosto che latte in polvere o carrozzine, addirittura lettini, quello che è più possibile avere per aiutarli in questo momento particolare. Ci occupiamo anche di dare assistenza dal punto di vista dell'ascolto in quanto cerchiamo di offrire loro la possibilità di aprirsi per quanto riguarda le loro problematiche socio-familiari piuttosto che lavorative. Quindi questo è quello che facciamo indicativamente da 15 anni. Al momento abbiamo comunque dei progetti che riguardano soprattutto la sede in cui operiamo. Attualmente noi abbiamo a disposizione un bilocale che ci offre semplicemente la possibilità di destinare tutto il materiale che recuperiamo ma non abbiamo gli spazi per poter invitare le persone o comunque fare socializzare con queste famiglie. quindi abbiamo la necessità di avere appunto locali più grandi dove poter creare spazi per le ripetizioni per i bambini piuttosto per creare attività di laboratorio o addirittura avere la possibilità di avere magari una stanza per poter invitare anche i senza tetto che magari anche soltanto una giornata nelle notti d'inverno abbiano la volontà di dormire comodamente magari di lavarsi e di stare magari con i propri animali domestici visto che nei dormitori pubblici non vengono accettati. Il nostro lavoro continuerà appunto in questo sicuramente da parte nostra c'è la grande volontà di aiutare fortemente queste persone nell'immediato dal punto di vista materiale sicuramente che è la cosa primaria però ciò che vogliamo è poter dare loro la possibilità di crearsi un futuro e di andare avanti con i propri mezzi ecco quindi come si dice non date loro del pesce ma insegnate loro a pescare. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Vittorio Bevilacqua sono il vice presidente dell'associazione sportiva Joyful l'associazione che nasce nel 1965 da un gruppo di amici che abitavano tutti in un condominio che decidono di costituire una chic club e nasce questo team che chiamano Chic Club Joyful Brothers i fratelli gaudenti, i fratelli allegri in quanto proprio questo era lo spirito di quella associazione quello di creare un'associazione sportiva in cui tutti i componenti fossero degli amici e che si divertissero tutti insieme il nostro chic club assume poi negli anni alla fine degli anni 70 questo marchio un po' particolare la J con le stelle e le strisce che non vuole essere legata al discorso americano per nessun motivo politico o altro ma semplicemente perché in quegli anni andava per la maggiore un sacco di gadget e di simboli americani ricordiamo il numero uno di una grande casa di motociclette americane oppure il segno di vittoria che veniva utilizzato con le stelle e strisce e anche in quel periodo è stato un po' clonato questa moda per creare il nostro simbolo Joyful che ha avuto successo e piaciuto e rimane tuttora quando abbiamo compiuto 50 anni abbiamo creato questa immagine questa divisa che assomiglia a una bandiera vintage un po' lavata un po' vecchia e è piaciuta molto ai nostri soci i maestri di sci e quindi continuiamo a utilizzarla che cosa facciamo noi come sci club? soprattutto la nostra filosofia si riassume in allievi atleti, amici quello che è un po' il nostro slogan cioè noi cerchiamo di fare dello sport portando l'amicizia portando i valori della lealtà dello sport senza un agonismo esasperato cercando di tenere i nostri ragazzi in un modo tale che rimangano amici anche al di fuori delle piste di sci e dello sport un altro nostro slogan è proprio sport, passione e divertimento che riassumono un po' queste cose è molto frequente che i nostri ex allievi iscrivano i loro figli a loro volta nel nostro sci club e di questo ne siamo molto orgogliosi abbiamo anche un'attività che supera la parte invernale della neve anche durante l'estate a parte lo sci estivo ci sono gite portate le tendate in quota con i maestri di sci che accompagnano i ragazzi a fare delle escursioni del trekking i cani da slitta le passeggiate così in montagna quindi cerchiamo di dare un'attività diciamo a tutto tondo anche nei periodi in cui la neve è assente dalle piste un altro argomento che ci sta molto a cuore è quello dell'inclusione siamo molto contenti e molto fieri di avere tra i nostri atleti un ragazzo che ha un handicap intellettivo è un atleta a Special Olympics e fra l'altro molto bravo e che è perfettamente integrato con i nostri gruppi con i nostri amici con i nostri ragazzi devo dire in una maniera vera dove non ci sono veramente barriere tra i ragazzi e Luca si fa la vita insieme anche nelle trasferte si sta in camera insieme assolutamente un'attività totalmente inclusiva e fra l'altro lui è molto bravo a sciare è un medagliador Special Olympics da tre anni in gigante discesa e quindi ci fa molto piacere avere tra i nostri atleti un ragazzo che veramente sta bene con noi di questo ne siamo anche fieri e questo fa parte un po' del sistema di educazione che cerchiamo di dare ai nostri ragazzi in questo complesso di attività di sport e di educazione alla vita grazie buongiorno a tutti i telespettatori sono Gabriella Monzeglio responsabile della didattica al Museo Laboratorio della Preistoria di Vaie con me la dottoressa archeologa Stefania Padovan curatrice del museo vorrei prima collocare dal punto di vista geografico questo museo siamo in Bassa Valle di Susa all'ombra della Sacra di San Michele e poi sicuramente il museo ha bisogno di una collocazione dal punto di vista storico sì il Museo Laboratorio di Vaie si lega strettamente all'invenimento di un importante deposito di asce in pietra verde manufatti in pietra impiegati nel Neolitico e non solo per la realizzazione di strumenti da taglio atti alla deforestazione messa in atto dalle comunità alpine e perialpine nel quinto millennio avanti Cristo il rinvenimento di questo importante deposito di asce nei pressi del cosiddetto riparo rumiano riparo sotto roccia che si colloca in prossimità del centro abitato di Vaie è fondamentale non solo per chi si occupa di preistoria ma per tutti coloro che intendono recuperare la memoria del passato dei propri luoghi il nome museo laboratorio della preistoria quindi abbiamo spiegato dal punto di vista preistorico ma anche il nome ha bisogno di una descrizione l'importante rinvenimento di manufatti in pietra verde di Vaie è oggi esposto al museo di antichità di Torino mentre il comune di Vaie con la collaborazione del centro di archeologia sperimentale di Torino con sedia a Villa Arbasse all'inizio degli anni 2000 ha inaugurato il museo laboratorio una realtà che permette di infrangere la barriera che di solito si crea tra oggetto esposto all'interno della vetrina e visitatore permettendo a tutti di avere un approccio un avvicinamento anche tattile ai manufatti attraverso riproduzioni sperimentali che sono proprio a disposizione dei visitatori abbiamo parlato di realtà tattile quindi al museo è presente una collezione tattile molto importante per tutte le tipologie di visitatori sì il percorso tattile è dedicato non solo all'utenza scolastica e all'infanzia ma anche alle utenze più fragili in particolare sono attive ormai da anni con il contributo di fondazioni bancarie e non solo progetti finalizzati a coinvolgere anche da un punto di vista pratico utenze fragili quali anziani quali persone con diverse abilità che possono davvero vivere un'esperienza particolare al museo che non è più un museo laboratorio ma davvero diventa un centro di cultura e di aggregazione per tutti ci sono dei progetti importanti fatti con le realtà locali le giornate archeologiche della valle di Susa per esempio i tesori di cultura alpina e poi sicuramente una collaborazione importante con le scuole di ordine grado quindi il museo offre percorsi nel territorio offre laboratori sono previsti momenti di sperimentazione è possibile abbinare una parte ovviamente divisa dal museo una parte con un laboratorio come tipologia di laboratori al museo di vai abbiamo un laboratorio di tessitura un laboratorio di archeologia sperimentale un laboratorio su graffiti e incisioni rupestri accanto a quella che è un'esperienza all'interno della struttura museale si crea un percorso archeologico in esterno che permette di compenetrare strettamente ambiente e archeologia occupazione umana antropica con contesto naturale davvero una simbiosi tra ambiente e uomo che caratterizza tutte le comunità della preistoria da quinto millennio avanti cristo fino ad oggi grazie a tutti per la vostra attenzione quindi vi invitiamo a visitare il museo laboratorio della preistoria di vaie e troverete sicuramente attività adatte a tutti l'associazione intercultura fondata nel 1955 è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale posta sotto la tutela del ministero degli affari esteri essa è gestita da migliaia di volontari che hanno scelto di operare nel settore educativo e scolastico per sensibilizzarlo alla dimensione internazionale è presente su tutto il territorio nazionale attraverso 157 centri locali di cui 13 solo in Piemonte e opera in oltre 65 paesi di tutti i continenti grazie alla sua affiliazione con AFS e EFIL l'associazione organizza promuove e finanzia scambi ed esperienze interculturali inviando ogni anno oltre 2200 ragazzi delle scuole secondarie a vivere e studiare all'estero allo stesso modo permette a più di 1000 ragazzi provenienti da tutto il mondo di vivere in una famiglia e di studiare in una scuola italiana per quanto riguarda le scuole di intercultura si propone di tradurre la propria esperienza pedagogica sulle tematiche relative all'educazione e alla mondialità in una vera e propria forma di didattica interculturale da elaborarsi attraverso l'interazione con il mondo della scuola e con l'università offre la possibilità di globalizzare i processi educativi organizzando scambi di classe e individuali per studenti attraverso tutta una serie di attività che permettono di sviluppare competenze interculturali grazie a oltre 60 anni di esperienza sul campo intercultura sostiene l'attività di insegnanti e dirigenti scolastici per la gestione dei programmi di mobilità studentesca offrendo gratuitamente appositi seminari di formazione tutto questo per favorire l'incontro e il dialogo tra culture diverse valorizzandone le differenze per maggiori informazioni sull'associazione e sulle attività di educazione interculturale vi invitiamo a consultare il sito intercultura.it Buongiorno sono Luisella Pozzani di Uni l'ente italiano di normazione oggi parleremo di sicurezza sulle piste da sci con il collega e funzionario tecnico di Uni Giovanni Micicchè ricordo però prima che Uni è un'associazione senza scopo di lucro riconosciuta dallo Stato e dall'Unione Europea che da quasi cent'anni studia e pubblica le norme Uni che sono documenti di applicazione volontaria tranne quando vengono richiamati espressamente da una legge che stabiliscono come fare bene le cose cioè con più qualità più sicurezza e più rispetto per l'ambiente queste norme vengono messe a disposizione dei produttori per fornire prodotti e servizi migliori e dei consumatori che possono fare scelte più consapevoli parliamo ora di sicurezza sulle piste purtroppo anche quest'anno si sono registrati alcuni gravi incidenti di cui tutti abbiamo sentito parlare ma da cosa dipende la sicurezza sulle piste? Buongiorno a tutti la sicurezza dipende sostanzialmente dalla manutenzione delle piste e dalla segnaletica apposta fattore di competenza dei gestori degli impianti dall'utilizzo di attrezzature adeguate da parte degli sciatori e dal loro comportamento sulle piste E che ruolo hanno le norme uni in questo? Le norme hanno un ruolo importantissimo una segnaletica ben visibile e comprensibile a tutti e quindi a norma uni contribuisce a tenere un comportamento corretto sulle piste La legge 363 del 2003 considera la segnaletica fondamentale per la prevenzione dei rischi mentre un decreto ministeriale del 2005 specifica proprio che la segnaletica deve essere conforme alle norme uni e le cita direttamente uni da parte sua aggiorna regolarmente tali norme e recentemente ha pubblicato una nuova edizione delle norme dalla uni 8132 alla uni 8136 per considerare nuovi segnali E cosa dicono queste norme? Ci puoi fare qualche esempio? La norma quadro specifica i colori le forme e le dimensioni dei diversi tipi di segnale e simboli in essi contenuti e richiede che essi siano ubicati in modo da risultare visibile anche a una certa distanza e in condizioni meteorologiche particolari I segnali di informazione permettono di individuare diversi tipi di impianti La nuova versione della norma ha introdotto tra gli altri il segnale per gli snow park Tra i segnali di obbligo ricordo quello di accompagnare i bambini al di sotto degli otto anni di età e quelli nuovi di utilizzare il casco lo slitino gli esci da fondo o lo snowboard La norma sui segnali di divieto definisce tra gli altri il divieto di sciare fuori pista il divieto di dondolarsi sugli impianti o di salire in due sullo skilift dei segnali di avvertimento ricordo quelli degli incroci della presenza di dossi o cunette e nuovi segnali relative alle superfici ghiacciate La norma sulle piste da discesa definisce i segnali per il grado di difficoltà delle piste le zone di rallentamento il fine pista la pista chiusa o il pericolo di valanghe E per quanto riguarda le attrezzature? L'utilizzo di attrezzature è conforme alle norme uni e garanzia di sicurezza Un decreto del Ministero della Salute del 2006 richiede che il casco obbligatorio per i ragazzi sotto i 14 anni durante lo sci alpino e lo snowboard debba essere conforme alla UNIN 1077 Anche le altre attrezzature hanno le loro norme di sicurezza ricordo le maschere da sci gli scarponi gli attacchi i paraschiena permettetemi di citare la UNIN 16716 sui sistemi di airbag da valanga che possono essere attivati dagli sciatori per ridurre il rischio di essere sepolti dalla neve La segnaletica così come le attrezzature sono importantissime ma il senso di responsabilità e il comportamento sulle piste lo è altrettanto come ci si deve comportare? Come specificato nel decalogo dello sciatore contenuto nel decreto ministeriale del 2005 è composto da 10 punti che danno indicazioni sul comportamento da tenere in pista Ricordo che il decalogo insieme a tutte le informazioni di cui abbiamo parlato oggi si trovano nella nostra brochure Neve in pista casco in testa che è liberamente scaricabile dal sito www.uni.com Ringrazio Giovanni Micicchè e saluto tutti coloro che ci stanno seguendo Grazie I programmi di Rai3 riprendono ora a diffusione nazionale Buona visione Grazie a tutti